Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con il caos vaccini, in particolare le somministrazioni agli anziani nella nostra regione che tanto hanno fatto discutere, visti i ritardi, anche il posizionamento in graduatori a livello nazionale della Toscana. Sulla questione è stato richiesto l'intervento del Governatore Eugenio Gianni proprio all'interno dell'Aula del Consiglio regionale e Gianni è intervenuto per fare chiarezza sulla questione sia per quanto riguarda i vaccini somministrati in queste ore che per gli obiettivi che si è fissata la regione per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Vediamo. Il Presidente della Toscana, Eugenio Gianni, ha risposto in Consiglio regionale alle polemiche sul portale di prenotazione regionale per i vaccini degli estremamente fragili, andato completamente in tilt nella serata di martedì. Il Governatore della Regione ha fatto chiarezza in Aula dopo la richiesta urgente avanzata dal capogruppo della Lega, Elisa Montemagni. Il Movimento 5 Stelle ha invece chiesto l'apertura di una commissione d'inchiesta regionale sulle carenze strutturali nella gestione della campagna vaccinale da parte della Toscana. 15.000 dosi di vaccino che sono quelle che abbiamo, e di più io non posso moltiplicare i pani e i pesci, sono 15.000, per iperfragili che in Toscana sono 80.000 e che noi abbiamo già incominciato a vaccinare con il criterio che chi si vaccina deve essere nell'elenco della Asla. La Asla ha incominciato a chiamare. Ci sono anche patologie di cui la persona non gradisce che si conosca all'esterno e l'operatore Asla si è sentito la sollecitazione. Ma lei chi gli ha detto che io ho questa malattia? Perché mi telefona? Allora, accanto ai 10.000 che abbiamo vaccinato nell'arco di più settimane con la telefonata Asla abbiamo detto mettiamo sul portale che semplifica con la possibilità di prenotarsi alla hub i 15.000 vaccini che ci sono arrivati. E lo sa che ne sono rimasti 80.000, meno di 15.000, 65.000 persone senza poter corrispondere il proprio desiderio. Ma i numeri sono questi. Noi man mano che ci arrivano i vaccini li rimetteremo sul portale e tutti gli 80.000 potranno arrivare a prenotarsi e a fare il vaccino. Detto questo, l'altro capitolo è sugli over 80. Io ho puntato sugli medici di famiglia perché sono quelli che conoscono l'ultraottantenne. Sanno come fargli a puntura, metterlo a proprio agio da un punto di vista psicologico. Certo, ci è voluto qualche giorno in più, ma il servizio che fa il medico di famiglia non è il servizio che fa l'operatore anonimo in un hub. Io penso anche all'aspetto psicologico per le persone oltre 80. Gianni ha fatto un minestrone di informazioni volando molto alto politicamente ma non ha risposto a quello che gli avevamo chiesto noi a inizio seduta. Perché che il disservizio ci sia stato è evidente, che l'organizzazione sia carente ormai è conclamato, però cosa si intenda fare da domani ancora non ci è stato spiegato. E forse era anche semplice e umile dire qualcosa non funziona, dobbiamo migliorare. Se invece ci si focalizza sul va tutto bene, va tutto bene, ci arrivano però solo vaccini AstraZeneca e non riusciamo ad avere Moderna e Pfizer, mi domando perché Eugenio Gianni invece di venire a fare voli pindarici in aula non chiami il Ministero e non chieda che ci vengano forniti vaccini sufficienti e idonei per vaccinare le persone fragili e gli anziani. Questo è quanto noi pensiamo, l'organizzazione non funziona, abbiamo delle grandi falle che denunciamo da mesi ormai e che però se non vengono riconosciute per prime dal Presidente della Regione il primo passo è proprio quello di dire c'è il problema, altrimenti non verrà mai risolto. Non c'è niente di male se l'assessore, il Presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato. Non c'è niente di male, nessuno li accuserà mai di averlo fatto in malafede, nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale. Non è più tollerabile sentir dire da parte delle USL e da parte dell'assessore che noi mentiamo, vengano queste persone di fronte ai cittadini della Toscana e ammettano di avere sbagliato, perché sbagliare è umano e da domani si lavora per far finalmente decollare il piano vaccinale anche in Toscana. La Commissione d'inchiesta risponde alla seconda domanda, serve a questo, noi la porteremo avanti come richiesta, la confermiamo, confermiamo una necessità, anzi forse oggi è ancora più importante di ieri averla e io mi auguro che la maggioranza non faccia lo stesso errore dell'assessore e dei direttori delle ASL, cioè non venga a dirci no, noi votiamo contro e noi la faremo lo stesso perché il regolamento ci permette di farla. Io mi auguro che sia una Commissione condivisa da tutti dove si lavora per cercare di far partire da domani la fase 2 dei vaccini in Toscana. Sono in distribuzione in questi giorni i primi 46 mila vaccini, 70 mila arrivano la prossima settimana. Se tutto va bene come noi speriamo, grazie alla collaborazione dei medici di medicina, generale, che voglio ringraziare, si dovrebbe riuscire a, prima di Pasqua, riavere un livello importante di vaccinazione degli over 80. Quindi contiamo in questi giorni di avere risultati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti. Ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. È assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18. In paesi normali, dove si vuole combattere il virus, si vaccina 24 ore su 24. Lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi, perché sono insieme ai superfragili malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità cinque volte superiore a tutti gli altri. E lo dobbiamo fare anche a casa. Ecco la vera novità. Over 80 vaccinati anche a casa. Poi dobbiamo fare lo scudo penale per chi va a vaccinare. Avete visto quello che è successo? Assistiamo a che un volontario, magari un medico in pensione, un infermiere o un volontario, somministra una dose vaccinale. Purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere al volontario. Questo in un momento difficile come questo è assolutamente inaccettabile. Serve cambiare metodo, serve migliorare. La Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come il numero di persone vaccinate over 80. Sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid, sono le persone più fragili. I fragili fra i fragili ho definito. E queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente entro Pasqua. Abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida, abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile. Abbiamo chiesto un'azione tempestiva, abbiamo chiesto di vaccinare volontari, donne e uomini che dedicano loro tempo al volontariato, utilizzare la protezione civile, intanto vaccinare rapidamente e fare in modo che ovviamente anche le aziende sanitarie possano fare un'azione attiva. Una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare. I medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili, quelli che non si possono muovere. Le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta. Allo stesso tempo questo deve essere la priorità delle priorità. Non c'è più tempo da attendere. Abbiamo formalizzato le nostre richieste e aspettiamo nelle prossime ore un cambio totale, radicale dell'approccio a questo metodo di vaccinazione. E parliamo anche dell'Agenzia Arti, quella per l'impiego della Regione che ha visto l'approvazione del proprio bilancio in Consiglio regionale che sarà molto importante in questa emergenza Covid, soprattutto dal punto di vista della gestione della crisi economica. Via libera maggioranza in aula al bilancio di esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia regionale per l'impiego. Le due proposte di delibera sono state illustrate dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti, che ha evidenziato l'importanza strategica di Arti in questo particolare momento. L'Agenzia eroga servizi non solo ai cittadini ma anche alle imprese, con servizi gratuiti di attivazione tirocini, attività di preselezione, l'inserimento dei lavoratori disabili. In aula è stata approvata anche la delibera che approva il bilancio consultivo di Arti per il 2019. Il conto si è chiuso con un valore della produzione di oltre 29 milioni di euro e un utile di quasi 1 milione e 965 mila euro, destinato per il 20% a riserva legale, mentre il resto sarà restituito alla Regione. Arti sarà fondamentale in quella fase che la Toscana attraverserà dopo che sarà tolto il blocco di licenziamenti. Nelle audizioni, nelle confronti che abbiamo avuto in Commissione, e ho sentito la dirigente che di questo è consapevole, sarà importante quindi mandare molte risorse per quanto riguarda il front office, perché ci troveremo davanti a un gran numero di domande di disoccupazione, sarà importante cercare il ricollocamento. Quindi diventa importante ricevere questa quantità di persone, provvedere anche a quello che è il reddito di cittadinanza e tutte le pratiche e attivarsi bene, e lo stanno già facendo, per una modalità di contatto che sia sia telematica che dal vivo. Sarà fondamentale quella dal vivo perché il supporto che si dovrà dare a queste persone sarà anche di vicinanza emotiva. E in questo devo dire che i professionisti del settore sono stati molto bravi in questi anni e noi dobbiamo dargli però una mano, economicamente e organizzativamente. In chiusura all'omaggio del Consiglio regionale ad Alfredo Catarsini, artista e letterato Via Regino e alla sua fondazione appena nata. Nasce la fondazione Alfredo Catarsini 1899, dedicata al maestro Via Regino, attivo come pittore, scrittore, critico e animatore di proposte culturali, presentata nella sede del Consiglio regionale, all'obiettivo di conservare e promuovere la sua opera artistica che ha attraversato tutto il Novecento. In quasi 70 anni di carriera, Catarsini ha esposto in Italia e all'estero dipingendo fino alla morte avvenuta nel marzo del 1993. È un momento importante, in un tempo in cui sono chiusi i teatri, sono chiusi i musei, non si riescono a fare mostre, sapere che c'è ancora chi investe sulla cultura ci dà forza e anche un po' di speranza. Per questo ho accolto un piacere, l'invito che la Presidente Giacchi mi ha rivolto insieme alla fondazione e sono qui per mandare questo messaggio di speranza, di speranza perché non vediamo l'ora di poter ripartire, le nostre mostre, i nostri luoghi di cultura possono tornare a riaprirsi. Questo fanno grande la nostra regione, la bellezza della Toscana è nella sua storia, nell'arte, nella capacità di saper trasmettere qualcosa di veramente profondo alle cittadine, ai cittadini e anche ai visitatori della nostra regione, sapere di poter avere qui con noi oggi chi vive di cultura e chi ha fatto la storia attraverso le proprie opere della nostra regione qualcosa di davvero bello, di davvero importante e il segnale di vicinanza mia oggi qui è un segnale, come dicevo prima, di speranza, di speranza di poter ripartire e di poter uscire anche con le nostre bellezze da questa terribile pandemia che ha sconvolto la vita di ciascuno di noi. Nella nostra famiglia c'è sempre stato non solo l'attenzione naturale e scontata verso l'arte in tutte le sue declinazioni, ma anche l'attenzione alla divulgazione e soprattutto alla valorizzazione sia dei nostri tesori ma anche dei giovani talenti. Quindi ci piace pensare che al di là del fatto di naturalmente valorizzare la figura di Alfredo Catanzini, farla conoscere meglio nelle sue molteplici sfaccettature, è stato un pittore ma anche uno scrittore, ha tenuto delle rubriche sui giornali, è stato un critico d'arte e animatore di eventi culturali in Versilia, ma ci piace anche pensare che la fondazione ci porti più avanti, quindi che ci apra al mondo delle arti, che ci apra al mondo dei giovani e che soprattutto riesca a trovare sinergie importanti con altri enti e altre fondazioni che perseguono questi obiettivi. Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, vi ricordo che potete sempre seguire tutti gli aggiornamenti, tutte le news all'indirizzo online www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento ovviamente su RTV38, arrivederci. Grazie a tutti.